L'emergenza sanitaria ci ha portato a un cambiamento, a una rottura degli schemi. Siamo passati ad una modalità di lavoro in smart working, abbiamo sospeso le trasferte, le visite dai nostri clienti, ma in compenso abbiamo rinforzato l'attività di assistenza in modalità remota, attraverso tutta una serie di piattaforme digitali, dove oggi riusciamo anche a fare training direttamente a casa del cliente. Le prospettive del settore mondiale del tessuto non tessuto sono eccellenti e questa rimane un'industria entusiasmante. Gli scenari futuri prevedono un aumento annuo del volume del 5% di tessuto non tessuto fino a un 2024 e sinceramente noi ne prevediamo molto di più, tant'è vero che grazie anche alle nostre strutture worldwide, nel mercato americano, nel mercato asiatico, riusciremo a essere presenti e vicini ai nostri clienti. Nel mondo nulla di grande è stato fatto senza la passione. La passione per il lavoro, quello che costruiamo, sono gli elementi che parlano di noi, che raccontano al mondo la visione della nostra azienda. Pertanto noi ci siamo oggi e ci saremo domani, pronti a contribuire al successo dei nostri clienti.